Dopo tre anni dall'uscita di Gran Turismo Sport, una delle serie di simulatori di guida più amate e vendute si prepara a tornare. Gran Turismo 7 si è infatti mostrato durante l'evento online dedicato ai giochi PlayStation 5, con un breve teaser e un intervento di Kasunori Yamauchi. Grazie al trailer mostrato, alle informazioni centellinate dal padre del Real Driving Simulator e, ad alcune indiscrezioni, è stato quindi possibile avere una piccola idea sommaria dell'opera di Polifoni Digital. Lo spettacolare trailer di Gran Turismo 7 si apre con immagini montate come sempre con la qualità tipica delle produzioni televisive dedicate a gare ed eventi sportivi automobilistici. Subito dopo, la scena si sposta sul campo e finalmente vengono mostrate immagini di gara. Benché queste sequenze facciano riferimento a corse sul circuito, e manchino spezzoni nei quali si vedono autoimpegnate ad affrontare tortuosi sterrati, non è da escludere la presenza dei rally anche nel nuovo capitolo di Gran Turismo. Ad ogni modo, il filmato trasuda potenza e qualità da tutti i pori. Dopo una veloce panoramica sulle sinuose linee di alcune affascinanti vetture, grazie all'inquadratura da dentro l'abitacolo si può intravedere un accenno di meteodinamico e del ciclo giorno-notte. Nel trailer si notano riflessi realistici della luce sulle carrozzerie e sul terreno circostante, e l'enorme cura dei dettagli viene evidenziata nella seconda porzione del video, dove prima di un breve giocato si intravedono nuovi menù completamente ridisegnati per risultare più accessibili e dinamici. GT World, casa, ma anche GT Café, le officine, i negozi, i tornei sono tutti lì a portata di mano. Sulla pista, invece, viene confermata la qualità generale di vetture e scenari, nonostante qualche lieve sbavatura come un paio di fenomeni di pop-in, segno di un lavoro ancora incompleto, e la sensazione che il nuovo Gran Turismo voglia ripartire dalla già ottima base di sport per poi evolversi in qualcosa di più completo. O almeno questi sono gli auspici. Il gioco ci sembra mirare infatti a una struttura di grande sostanza, in grado di intrattenere gli utenti per decine e decine di ore durante la loro scalata al successo, e a un gameplay estremamente solido. Anche a giudicare da quanto rivelato nelle scorse ore da Herman Alst, capo del World Wild Studios di Sony, ovvero che nel gioco farà il suo ritorno la tanto amata Simulation Mode, o se preferite, modalità Gran Turismo. Gli sviluppatori puntano infatti a un comportamento generale dell'auto più credibile, dove i diversi tipi di trazione e settaggio incidano maggiormente sulla sua reazione durante la gara. Senza contare la diversa aderenza sulle piste bagnate dalla pioggia e forse anche su sterrato. Per gestire al meglio determinati aspetti della propria vettura e renderla performante per ogni evenienza, dovrebbe inoltre essere concesso al giocatore di operare con maggior realismo sulle modifiche meccaniche al motore, impianto frenante, al sistema di scarico o all'assetto di guida. Kasunori Yamauchi ha sottolineato che il team è impegnato al massimo per portare grafica, sonoro e fisica all'altezza del nuovo hardware a disposizione, e che dunque i giocatori debbano aspettarsi un passo avanti importante rispetto al passato, sebbene molti elementi su schermo sembrano ripresi direttamente da Gran Turismo Sport. Un risultato già impressionante, nonostante è bene non dimenticare che PlayStation 5 ha un hardware tutto da scoprire e che gli sviluppatori lo sfrutteranno al meglio solo nei prossimi anni. Con un comparto visivo ai limiti del fotorealismo, un frame rate fisso a 60 fps e il supporto al feedback aptico del DualSense per percepire alcune sensazioni di gioco tramite vibrazioni o movimenti, l'immersività sembra davvero garantita. Se poi aggiungiamo anche un ottimo sistema raytracing in combinazione con l'audio 3D, il quadro sembra piuttosto interessante. Considerando il fatto che probabilmente c'è ancora un po' di sviluppo da ultimare, visto che non abbiamo una finestra temporale per il lancio di Gran Turismo 7, ci aspettiamo ulteriori evoluzioni sul fronte tecnico. Gran Turismo 7 mira a portare tutta la qualità, il divertimento e l'eleganza della serie anche su PlayStation 5. Nonostante non si conosca molto del prossimo episodio della saga targata Polifoni Digital, la nostra sensazione è che possa rivelarsi un vero e proprio tributo al mondo delle quattro ruote. Un titolo che ripartirà probabilmente da una formula ormai collaudata, senza però rinunciare a innovare alcuni aspetti del gameplay in relazione alle caratteristiche del nuovo hardware a disposizione, compreso il DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5, per offrire, si spera, un livello di realismo sempre maggiore. Grazie a tutti.